Questo filmato, questa guida, vi mostrerà come impostare, come configurare l'access point presente all'interno del vostro router DSL2770L. Per prima cosa, controllate di essere connessi al vostro router DSL2770L attraverso il cavo o attraverso la rete wireless. Vi consiglio di utilizzare una connessione cablata perché, trattandosi di configurazione della rete wireless, potrebbe causarsi qualche disconnessione del vostro apparato dal router in caso di un riavvio dello stesso. In ogni caso sappiate che è possibile effettuare tutto quanto vedremo sia attraverso la connessione Ethernet, quindi cablata, che attraverso la connessione Wi-Fi, quindi wireless. Dopo esservi accertati di tutto questo, apriamo un browser a vostra scelta. Può essere Internet Explorer, può essere Firefox, può essere Google Chrome, Safari, a vostra scelta. E raggiungiamo l'indirizzo di amministrazione del nostro router. Se non l'avete cambiato, l'indirizzo di default è 192.168.1.1. Vi ripeto l'indirizzo, 192.168.1.1. Se tutto è avvenuto correttamente, vedrete la pagina che è ora mostrata a schermo, in cui dovrete inserire il nome utente e la password di accesso al management dell'apparato. Il nome utente è admin. La password, se non l'avete modificata, è admin. Clicchiamo su login e accederemo al nostro apparato. Andiamo ora in setup. Nella parte di sinistra cliccheremo su wireless setup. E da questa schermata noi potremo configurare il nostro access point integrato. Vi consiglio di andare su manual wireless connection setup, in cui potrete vedere tutti i parametri di funzionamento del nostro access point. Questo che vedete è l'SSID, quindi il nome della rete wireless, e lì potrete mettere quanto più vi aggrada, quindi un nome che permetta alla rete di essere univocamente identificabile all'interno dell'area in cui volete che gli apparati possano connettersi. Vi consiglio di modificarlo, quello di default è quello che vedete a schermo. Vi consiglio di mettere qualcosa a voi facile da ricordarsi. Potete abilitare o disabilitare l'access point, nel caso specifico lasciamo l'abilitato, ma soprattutto potete schedulare l'accensione dell'access point e il suo spegnimento, cliccando su questa voce e aggiungendo uno scheduling e cliccando su Add New. Potete impostare manualmente un canale, nel caso in cui le performance del wireless non siano quelle che vi aspettavate in termini di copertura e soprattutto se vedete che nella vostra area ci sono parecchi access point, vi consiglio di provare a modificarle manualmente. Quindi togliamo il segno di spunta da Auto Channel Scan e selezioniamo uno dei 13 canali messi a disposizione. Per fare i test vi consiglio di partire col primo, provare il tredicesimo, eventualmente uno centrale qual è il 6 o il 7 e successivamente altri fino a trovare quello che più vi si aggrada. Per tutto il resto, normalmente direi di non fare alcun'altra modifica. L'ultima cosa importante da modificarsi è la sicurezza, l'encryption. è fondamentale aver attivato una forma di sicurezza sul nostro apparato, sul nostro access point per evitare che qualcuno di a noi non noto possa accedere alla nostra rete e la possa sfruttare per il collegamento ad internet, quindi per ragioni di sicurezza. Scegliete quindi in questa voce, in questo menu, security mode, il modo che voi preferite. NAN sta per nessuna forma di sicurezza, ma vi ripeto, vi consiglio di non utilizzarlo. WEP è un sistema ormai passato, facilmente superabile da parte di un malintenzionato. Vi consiglio vivamente di utilizzare WPA Personal. Successivamente impostiamo il tipo di WPA. Esistono due tipi di WPA, WPA2 e WPA1. WPA1 è una forma di encryption compatibile anche con apparati più datati. Se voi utilizzate apparati soltanto recenti, intendo apparati Wi-Fi, vi consiglio di utilizzare WPA2 perché è una forma di criptatura più efficiente e robusta nel caso qualche malintenzionato provi a forzare la vostra rete. Quindi posizioniamo su WPA2. Lasciamo tutto impostato come è. Cambiamo la chiave di accesso. La pre-shared key che voi vedete è la password che il vostro computer e il vostro telefono vi chiederanno di inserire per accedere a questa rete. Una volta terminati questi cambiamenti, clicchiamo su Apply Settings. In pochi secondi il nostro router sarà di nuovo attivo. Se vogliamo possiamo, come dicevo, attivare lo scheduling dell'accensione dell'access point cliccando su Add New. E qui possiamo definire un intervallo di giorni o di ore entro cui lasciare acceso o spegnere il nostro access point. Quindi per esempio i lavorativi. Selezioniamo i giorni lavorativi. E attiviamo. Vedete che abbiamo attivato questa forma. Torneremo di nuovo in Setup, Wireless Setup, Manual Wireless Connection Setup. E qui vedremo anche la possibilità di attivare lo scheduling lavorativi per il nostro access point. Per attivare tutto questo dovremo cliccare su Apply Settings. E così il nostro access point rimarrà acceso soltanto nei momenti in cui noi avremo identificato all'interno dello scheduler. Sempre nel menu Wireless Setup abbiamo altre impostazioni, quale il Wireless Protected Setup. Il Wireless Protected Setup è un sistema per facilitare la connessione di apparati Wi-Fi al nostro router attraverso la pressione di un pulsantino presente nella parte frontale dello stesso. Se volete attivarlo basta che entrate in questo menu e clicchiate su pulsante Enable. Esistono due tipi di WPS. Attraverso l'inserimento di un pin che vedete qui riportato e che può essere modificato. Oppure attraverso il pulsante presente sulla parte frontale del router stesso. Abilitandolo cliccate su Apply Settings. In questo modo potrete iniziare a utilizzare il pulsante presente sulla parte frontale del nostro router, del vostro router per connettere apparati quali telecamere o telefoni che supportano questa modalità che vi ripeto essere WPS, Wireless Protected Setup.